Musica Verso un solido futuro, questo è il tema dell'incontro che si è svolto al Fermo Forum con un evento speciale del Grand Tour delle Marche di tipicità realizzato dal project partner Banca Metoranum con l'occhio vigile di Massimo Cubillari che ci ha un po' illustrato quelli che sono stati i temi della serata con le opportunità nonostante il periodo di crisi. Mai come in questo momento, in questo periodo bisogna avere le idee chiare, bisogna avere obiettivi chiari e bisogna lavorare per questi obiettivi e questi periodi paradossalmente sono degli acceleratori che consentono di arrivare più velocemente all'obiettivo, sia che si chiami azienda e permettetemi, anche se mi chiamo risparmiatore, ogni persona che in questo momento vive e che ha un obiettivo deve avere fiducia del futuro perché questi momenti, questi periodi sono grandi acceleratori per poter arrivare alla soluzione. Bisogna però avere tanta fiducia perché dopo la pandemia la guerra rincari un'azienda o come diceva lei un risparmiatore deve trovare l'uomo di fiducia per andare avanti? Deve trovare l'uomo di fiducia, deve trovare la persona che magari fa quella che qualche volta chiamo helicopter view, cioè di fatto la visione è un pochino dall'alto perché certo ragionare mentre sia all'interno di un temporale è molto difficile pensare che poi possa, se mi alzo magari di qualche migliaio di metri, capire che intorno c'è il sole e così è, perché di fatto se solo ci basiamo negli ultimi 50 anni sono state decine e decine di crisi, ognuno di noi ha vissuto decine e decine di crisi, eppure negli ultimi 50 anni il benessere che possiamo declinare come il famoso PIL mondiale è cresciuto di otto volte al netto dell'inflazione, nonostante tutte le crisi, o meglio le crisi hanno fatto sì che in quel momento ci fossero degli acceleratori in termini di attività, in termini di attenzione, in termini di risorse, ecco mai come in questo momento, faccio l'esempio con la pandemia, si era mai pensato che in nove mesi si riuscisse arrivare ad un vaccino, no perché normalmente ci volevano tre anni, ma la pandemia e la crisi mondiale legata al settore sanitario ha fatto sì che tutte le risorse e tutte le menti fossero dedicate a quell'obiettivo, così avviene ogni volta in ogni crisi, avverrà anche in questo caso. A proposito di tipicità, folto e ampio il calendario di questa iniziativa, abbiamo ascoltato il direttore Angelo Serri. Sicuramente il Grand Tour delle Marche ha dato e sta dando un contributo essenziale alle nostre comunità, innanzitutto perché le mette in rete, quindi insegna anche a collaborare, a supportarsi reciprocamente perché la nostra è una regione fantastica, però è fatta da tanti piccoli microcosmi che insieme fanno questa regione grande, appetibile e quindi abbiamo anche visto negli ultimi tempi, specialmente dopo la pandemia, le Marche sono diventate una tra le destinazioni turistiche più ricercate, proprio perché riescono a coniugare tipicità appunto, ma genuinità e soprattutto ecco questo paesaggio che è lo spettietto proprio di una natura pressoché incontaminata. Oggi una tappa qui a fermo con un obiettivo che guarda un po' in riferimento a Banca Mediolanum su quello che è un po' il futuro, il solido, il futuro. Banca Mediolanum nel Grand Tour delle Marche è project partner, quindi insieme si concepiscono anche le strategie e oltre che a condividere la progettazione e le strategie, diciamo che questa banca ci mette a disposizione degli eventi speciali, momenti di approfondimento dei laboratori, parliamo oggi di futuro, è importante perché questo è un mondo che cambia vorticosamente e bisogna essere pronti ad affrontare le nuove sfide e con Banca Mediolanum come l'abbiamo già fatto qui in giugno, oggi ne facciamo un altro di questi eventi che progressivamente tendono appunto a temprare ulteriormente, a preparare gli imprenditori a quelle che saranno le sfide di domani, del presente e futuro possiamo dire. Ci sono aziende leader nelle Marche, una del settore alimentare e l'altra nel settore tecnologico, allora abbiamo ascoltato Graziella Ciriaci, amministratore delegato di Ciriaci SRL e Stefano Porcaroli, CEO del gruppo Med, dove la tecnologia ovviamente ha uno sguardo davvero solido verso il futuro, ma anche per quanto riguarda l'alimentare con la Graziella Ciriaci, tante le soddisfazioni del proprio settore, anche il libero si sente il peso di questa crisi, che andrà sicuramente a toccare il prezzo della materia prima, il prezzo anche finale del prodotto, ma non il personale. Abbiamo grandi difficoltà per quanto riguarda, ormai è diventato quasi qualunquistico dirlo, però comunque l'energia per quanto ci riguarda è uno dei costi che è incontrollabili e che a volte magari rischia di metterci un pochino anche in discussione sugli entusiasmi. Nonostante ciò però l'azienda continua a guardare oltre e forse è anche un momento molto importante questo, un momento di riflessione, un momento dove, come si dice, nei giorni di maggiore tempesta le piante cercano di fare grandi radici. Questo è quello che stiamo facendo da buoni coltivatori del territorio. Sappiamo bene che comunque dobbiamo riflettere molto, dobbiamo essere pacati sulle scelte, dobbiamo essere ponderati, molto responsabili, ma nello stesso tempo anche guardare un futuro, guardarlo con ottimismo, soprattutto anche con molta creatività. Un'analisi molto importante la facciamo anche dal punto di vista qualitativo e di ricerca di mercato. Guardiamo con molta attenzione quelle che sono le richieste del mercato stesso. I nostri ragazzi sono preparatissimi e sono comunque molto critici perché vogliono un avvenire sicuro. Appena ritirato il premio Giuseppe Cuzzini. Sì, anche questo ha un grandissimo traguardo, una grandissima soddisfazione. Oltre ad essere presenti nel territorio, nel rispetto del territorio, nella crescita, nel rispetto dei giovani, nel farlo crescere. Noi siamo stati anche abituati, non mi freggio di questo riconoscimento come parte primaria, ma come un risultato di una famiglia che oramai viene dalla quarta generazione che ci ha insegnato ad essere comunque responsabili, ma soprattutto guardare anche chi ci sta dintorno e soprattutto anche le realtà più fragili. Un'azienda leader del settore Apple nelle Marche che sta dando tantissime soddisfazioni. Un'azienda che è nata nelle Marche addirittura 40 anni fa. Quest'anno festeggiamo 40 anni, dal 1982. Siamo nati a Camerino come uso e costume nel mondo della tecnologia in un garage. Da lì c'è stato un processo di crescita su diversi settori, in diverse aree d'Italia che ci ha portato ad essere un grande gruppo nel centro Italia. Notizia degli ultimi mesi abbiamo chiuso questo accordo di acquisizione di questa importante realtà milanese che aveva a sua volta altrettanti negozi, altrettanti investimenti nel mondo B2B. Una realtà con oltre 300 dipendenti, con più di 200 milioni di fatturato che entrerà a far parte del nostro gruppo che sta entrando man mano, sono diverse aziende, quindi stanno man mano entrando a far parte del nostro gruppo, del gruppo MGH che sarà poi il cappello sotto il quale metteremo Mestor e Metsystem e dal loro punto di vista Juiz ricordata che sono le due aziende che entrano a far parte. Quindi tanti investimenti per crescere ancora di più, per avere ancora più forza, per aggredire un mercato che ha mille complicazioni, ogni anno ne ha diverse, dalle varie crisi che abbiamo avuto negli anni passati al Covid e ora alla crisi energetica, ma un'azienda forte e finanziata con le spalle coperte riesce ad affrontare, deve riuscire ad affrontare anche questi momenti. Un mercato che non conosce mai un limite perché c'è sempre una novità? Beh è il bello della tecnologia, è il bello di un mercato molto dinamico che cresce, che si reinventa, ma che dico io e questo è il focus della nostra azienda, deve reinventarsi non solamente per produrre giocattoli, ma deve reinventarsi perché i nostri clienti, i nostri utenti, le persone, i nostri amici hanno bisogno di tecnologia nuova per affrontare le sfide che il mercato ci sottopone. In un mondo dove davvero le crisi degli ultimi anni ci hanno abituato sia nella vita privata, sia nella didattica, sia nel mondo dell'azienda, a reinventare continuamente i nostri processi di apprendimento, di produzione, la tecnologia deve stare al fianco di chi la utilizza per permettergli di ottimizzare, di produrre, di essere in mobilità, di essere sempre innovativo sul mercato e questo è quello che vogliamo fare come MGH con le nostre aziende, sia rivolgendoci al cliente privato, sia al mondo delle scuole, sia al mondo delle aziende, andare a fornire non solo una scatola, ma andare a fornire una soluzione che possa in qualche modo aiutare chi la acquista a migliorare un qualche aspetto della propria vita. Un'eccellenza importante nelle Marche dove davvero lì si può costruire il futuro è data dall'Università di Camerino. Abbiamo ascoltato il sindaco della città Camerte, Roberto Lucarelli. L'Università per Camerino, per la città, ma per il territorio è sicuramente il motore, la prima fabbrica, io direi che chiamo sempre con il permesso in magnifio di un territorio che sicuramente dà quel giusto imprinting a quello che deve essere il futuro, a quello che deve essere alcune certezze e l'Università di Camerino in particolare si è sicuramente negli anni, poi in questi ultimi mesi anche con importanti risultati ha avuto quella che è poi quell'imprinting necessario per dare un futuro a questi nostri ragazzi. Futuro che non solo per un discorso personale ma anche di territorio. Quindi la cosa più importante oggi, vista da amministratore e da sindaco della città di Camerino, è che questi ragazzi formati e benissimo formati dall'Università di Camerino restino nel territorio. Oggi la sfida più grande è far restare i giovani ragazzi in questi territori che sicuramente rispetto a prima offrono meno ma che oggi devono ricominciare a avere quella attrattività che negli anni hanno sempre avuto. Col terremoto una grande sfida? Col terremoto una grandissima sfida, una grandissima sfida soprattutto dal punto di vista di ricostruzione ma più che di ricostruzione nelle case che sicuramente riusciremo, la sfida più grande è disegnare un futuro a quel salotto buono, salotto bello che è il centro, il cuore pulsante di ogni singola città è quello di ridare comunque un futuro che sia attrattivo fra X anni. Oggi abbiamo parlato di futuro, anzi di solido futuro, quindi due parole che restano oggi difficili, sia del futuro soprattutto solido, in questi momenti di immensa crisi e di mezza incertezza. Quindi ecco, la sfida più grande è questa, ridisegnare una città che abbia, che provenga da una storia importante come quella di Camerino ma che sia proiettata al futuro in maniera forte.